Passiamo ora ad una pratica e comodissima Meriva, molto bella con questa sua colorazione bianca, versione 1.4 turbo, benzina e GPL, tenuta molto bene di carrozzeria, molto bene di interni. Guardate che bella, pratica e versatile, con la sua famosa portiera posteriore controvento, molto comoda nell'accesso. Auto in ottime condizioni con 79.350 km, ovviamente autoradio, bluetooth, climatizzatore automatico. Veramente un'auto versatilissima per la famiglia, particolarità dei sedili posteriori scorrevoli, singolarmente uno ad uno, baule capiente, come dicevo è la versione 1.4 turbo, benzina e GPL, 120 cavalli del giugno 2012, unico proprietario, chilometri certificati, veramente bella.